Non sai che decisione prendere per il tuo futuro, hai paura che se prendessi oggi una decisione quella non potrebbe non essere la decisione giusta tra qualche anno. Come comportarsi? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio andare a sfatare un mito enorme, quello di prendere la decisione giusta. Ragazzi, la decisione giusta non esiste, ok? Anzi, vi dico io, esiste solo la decisione sbagliata. Lo sapete qual è la decisione sbagliata che potete prendere? Non prendere una decisione. Questa è la cosa a cui dovete fare più attenzione. Io ho un grande mantra che è stato un po' la mia linea guida per tutta quanta la mia vita e ve la riporto qua solo per farvi riflettere, non perché deve necessariamente essere la cosa giusta per voi, ma ho sempre pensato che l'azione, la proattività è quello che ci permetteva di mettere a fuoco meglio le cose anche in momenti di incertezza, di difficoltà, momenti in cui non eravate così sicuri di fare quella cosa piuttosto che un'altra. Scegliere un lavoro, avete magari due o tre aziende davanti e non sapete quale azienda scegliere. Avere davanti dovete scegliere l'università e non sapete bene a quale università, a quale indirizzo universitario iscrivervi. Dovete lanciare un business o un prodotto e non sapete, siete un po' indecisi se fare quel, lanciare quel business adesso e magari andare più avanti se lanciare il secondo. Insomma, indecisioni, o meglio, indecisioni sta per quale decisione devo prendere. Iniziate a fare, questa è la mia risposta, iniziate a guardarvi allo specchio, fermarvi un attimo e dirmi qual è oggi la cosa che mi piace di più, qual è oggi la cosa che mi motiva di più. Se dovessi pensare di dover fare questo per i prossimi 10, 15 o 20 anni, cosa mi piacerebbe fare? E che cosa mi piacerebbe fare rimanendo motivato? Bene, la risposta a questa domanda vi dovrebbe già aiutare, almeno a scartare, perché a volte la cosa più difficile è quella di scartare, non è quella di fare. Perciò, cominciate con chiedervi che cosa vorreste, dove vi vedete tra 10, 15, 20 anni, quindi fermatevi, immaginatevi proprio, immaginate voi stessi aver preso la decisione oggi, proiettate l'immagine di oggi tra 15, 20 anni e chiedetevi se effettivamente ancora vi piacerebbe stare a lavorare in quell'azienda, ancora vi piacerebbe portare avanti quel prodotto. Perché, ragazzi, e questa è un'altra verità enorme, non esiste la risposta giusta, la decisione giusta in maniera assoluta e definitiva, ma esiste la decisione giusta in questo momento della vostra vita. Perché col senno del poi, nel trading lo dico spesso, negli investimenti, no? Col senno del poi eravamo tutti ricchi, eravamo tutti famosi, eravamo tutti quanti fatto successo, ma non si può ragionare col senno del poi. Bisogna ragionare sul presente, basandosi sul passato, perché il passato è quello che ci ha formati, quello che ci ha creato, è quello che ci ha fatto capire cosa ci piace fare e cosa non ci piace fare, e se non lo avete capito, scopritelo, buttatevi, iniziate a fare, iniziate a prendere le decisioni, anche se sono le decisioni sbagliate. Meglio sapere oggi o tra qualche mese che la decisione che avete preso è quella sbagliata, tornare indietro e prendere un'altra, piuttosto che vivere nell'incertezza, o peggio ancora, non prendere una decisione. Un consiglio che do sempre ai ragazzi giovani è, non sai bene che cosa, quando sei giovane non sai bene che cosa vuoi fare, ok? Devi ancora scoprirti, devi ancora scoprire quello che veramente ti motiva e ti appassiona, oggi lo puoi credere, ma poi devi iniziare a farlo e scoprire se effettivamente è così, le tue assumption iniziali poi coincidono con la realtà. Quindi una cosa che dico sempre, non sai bene per quale azienda andare a lavorare o con quale lavoro cominciare, bene, non pensare allo stipendio. Quando sei giovane non devi pensare allo stipendio, non devi pensare a massimizzare quello che ti metti in tasca, devi pensare a massimizzare la tua conoscenza, perché la tua conoscenza te la porterai dietro per tutta la vita. Gli stipendi aumentano, diminuiscono, i soldi poi vengono spesi, spesso vengono spesi anche male, e quando sei giovane devi puntare su te stesso, non devi puntare su che cosa ti permette di comprarti oggi gli sfizi che vuoi. Quindi una cosa, un consiglio che do sempre è, lavora per la persona che vorresti diventare, anche a costo di lavorarci gratis. Lavora per le persone che stimoli, che stimi, scusate, che ti danno uno stimolo a continuare. Sei indeciso sullo scegliere un'azienda? Bene, decidi le persone, non decidere l'azienda. L'azienda è fatta di persone alla fine. Quindi puoi anche avere, immaginare di avere questo pensiero di voler andare a lavorare per grandi aziende, che possono offrirti una lunga carriera, ma alla fine andrai a lavorare per altre persone e con altre persone. Meglio quindi fare una scelta basata su quella. Quando fai i colloqui, tu sia anche un investigatore, non essere solo l'investigato, ma sia anche tu un investigatore per cercare di capire se la persona che hai davanti, che magari sarà il tuo capo, chiedi anche di parlare con dei colleghi per capire con chi andrai a confrontarti tutti i giorni. Bene, quelle persone ti ispirano? O quelle persone sai già che magari tra qualche mese potresti essere, è una persona che non ti dà stimoli, è una persona che non ti può insegnare nulla? Bene, allora forse la decisione è decidere di non andare a lavorare lì, ma andare a lavorare da un'altra parte. E la stessa cosa è per il business. Nel business, nei prodotti che hai intenzione di lanciare, non puoi fare dei colloqui e sapere con chi andrai a lavorare, perché tu sarai l'imprenditore della tua idea. Quindi, innanzitutto, devi avere una grande consapevolezza di quello che vuoi fare, di come lo vuoi fare, di quanto tempo sarai in grado di farlo. A me certe volte, nel passato, soprattutto quando ero più giovane, avevo tantissime idee, no? Le idee non sono mai un problema, il problema è la realizzazione di quelle idee. E quindi mi dicevo, cavolo c'è questa idea che devo fare, devo portare avanti, la iniziavo, poi ne avevo un'altra e iniziavo a portare avanti l'altra e lasciavo indietro l'altra. Ma la verità è che non mi ero mai fermato e non mi ero mai detto, cos'è Marco che ti piace fare, cos'è che ti motiva, cos'è che non fai necessariamente per i soldi? Perché ragazzi, i soldi e le ricompense economiche, quelle arriveranno, arrivano dopo. Se voi create valore aggiunto per le persone, per il vostro target, le persone a cui vi rivolgete, Bene, sappiate che verrete ricompensati per questo, ma soprattutto quando stare facendo qualcosa che vi motiva e che volete veramente fare, quel qualcosa lo farete indipendentemente da quali saranno i ritorni economici. Che ci saranno, ve lo assicuro, ma quello che vi sprona, che è quello che vi fa alzare la mattina e non vedere l'ora di cominciare a fare, non è guadagnare 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro di più. Quando la motivazione sono i soldi, sappiate che quel tipo di motivazione a un certo punto stanca, ok? Perché dovrete andare incontro a enormi difficoltà e la spinta, la motivazione deve essere di altra natura. Se è solo economica, in tempi duri, in tempi in cui l'economia non va benissimo, in tempi in cui il vostro prodotto non va benissimo, Bene, in quei momenti, allora non saprete andare avanti e abbandonerete e passerete alla prossima idea e avrete solo perso tempo. Ragazzi, spero di avervi dato degli spunti interessanti e soprattutto avervi fatto capire che la decisione giusta non esiste. Esiste solo la decisione che in quel momento sapete essere quella che vi sentite più vicini e che vi sentite di poter sposare per i prossimi N anni. Spero che su questo sono riuscito a far passare il messaggio. Un like se questo video vi è piaciuto, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!